56 nuovi dipendenti negli uffici comunali delle amministrazioni del cratere e ciò che emerge dal vertice sulla ricostruzione di questa mattina a Teramo, dove il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dato il via libera alle nuove assunzioni. Vincenzo Rivera, dirigente dell'ufficio speciale per la ricostruzione di Teramo a seguito del sisma del centro Italia del 2016 e del 2017, fa sapere che ad oggi sono ancora aperte 1900 pratiche. Per quanto riguarda le prime case, comunica Rivera, siamo arrivati a istruire intorno alla pratica 1300 e nel giro di tre mesi saremo in condizioni di rispettare i tempi del procedimento. C'è però un considerevole arretrato per le seconde case, prosegue il dirigente, ma ciò è imposto dalla legge perché è previsto dai criteri di priorità. In totale il 2019 si è concluso con 490 decreti rispetto ai 130 del biennio precedente. Credo che un cambio di passo sia stato registrato, conclude soddisfatto Rivera. Si può dire che la ricostruzione stia davvero partendo. Il presidente della provincia teramana, Diego Di Bonaventura, è meno fiducioso. Roma deve nominare un sottosegretario per la ricostruzione, ha dichiarato il presidente. Se non ce n'è uno che se ne occupa realmente nei palazzi romani, la ricostruzione rimane dove è partita dal 2016. Di Bonaventura poi si è speso anche per i paesi e le città al di fuori di quella che è considerata la zona terremotata. Nessuno parla dei tanti comuni che sono al di fuori del cratere, ha affermato il presidente provinciale, ma che hanno gli stessi problemi di quelli all'interno.